Archiviata la notizia della riattivazione ferroviaria tra Andria e Corato dal 3 aprile e conseguente apertura ufficiale della stazione Andria Sud, ora è tempo di organizzare i trasporti. Il comune di Andria, di concerto con Ferro Trambiaria, ha meno di due settimane per mettere a punto i dettagli. Di certo c'è che Ferro Trambiaria si occuperà del trasporto da Largo Ceruti, che resta capolinea degli autobus, ad Andria Sud e viceversa. Impossibile, almeno per ora, pensare di cambiare il capolinea dei bus per una questione di spazi nei pressi della stazione troppo esigui. L'assessore alla mobilità Pasquale Colasuono, assieme alla sindaca Giovanna Bruno, sta lavorando per chiedere a Ferro Trambiaria di smistare le corse in arrivo in stazione, alcune da via Mozart, dove c'è l'ingresso principale, altre dalla rotonda di via Biceglie, dove gli utenti potranno accedere ai binari tramite il sottopassaggio, il tutto per scongiurare il traffico eccessivo. Sempre dall'ingresso, lato via Biceglie, dove si può arrivare in macchina, a piedi o in bicicletta, al pari del lato via Mozart, bisognerà capire la gestione dell'ampio parcheggio, se libero o a pagamento. Lo si deciderà quasi certamente più in avanti. Con la Suono proporrà a Ferro Trambiaria anche di aprire un varco pedonale nel muro che delimita il parcheggio per facilitare l'accesso a piedi degli utenti, vista la presenza di una lunga passerella pedonale. La vera criticità, ha spiegato l'assessore Colasuono, sarà legata al trasporto pubblico locale, ovvero all'organizzazione delle circolari in partenza e in arrivo dalla stazione di Andrea Sud. Al momento non ci sono corse e servono fondi. Un'altra criticità grossa a cui chiede il contributo della regione è per il trasporto pubblico locale. Non abbiamo linee che passano per via Mozart, per cui chiediamo un incontro e spero a livello regionale nel più breve tempo possibile, perché il 3 è domani, il 3 aprile, che ci si possa incontrare e capire un po' come poter strutturare su questo versante trasporto pubblico locale. Atteso che, è noto a tutto, siamo un ente in predissesto, senza fondi e quindi se non ci viene in aiuto la regione difficilmente riusciamo a dare ai cittadini tutto quello che loro pretendono dopo sette anni di attesa. Un servizio che tuttavia non può mancare per i cittadini, soprattutto per chi si muove dai quartieri più distanti, ma anche per turisti che usufruiranno della linea ferroviaria riattivata per giungere ad Andrea, nei prossimi giorni con la suono incontrerà l'ASA per una prima organizzazione delle linee urbane in attesa di riscontri sui fondi dalla regione Puglia. Insomma, un lavoro complesso ma necessario per garantire l'accessibilità per tutti ai treni, mancano ancora i nuovi orari delle corse ferroviarie che quasi certamente modificheranno anche gli orari di partenza da Largo Ceruti. Su questo punto l'amministrazione darà al più presto tutte le info necessarie prima del 3 aprile, sollecitando tutte le parti. Entro il 3 aprile un'informazione chiaro di quello che siamo riusciti ad ottenere con la partecipazione di tutti. Credo che la regione sarà anche molto disponibile, anche la ferro traviare saranno disponibili a comprendere le esigenze di un'intera città.